Coronavirus oggi registrato un solo caso, purtroppo c'è stato un decesso dopo quasi 4 mesi. Escursionista a soccorso sul velino, era precipitato per oltre 30 metri su una parete. Programma recovery found in Abruzzo, le nuove opportunità verranno illustrate giovedì prossimo. Campagna zero morti sulle strade, iniziativa in tutta Italia da parte della Polstrada. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. Lasciando da parte un certo ottimismo, pur se giustificato, i dati da contagio da coronavirus oggi sono senz'altro più che soddisfacenti. Infatti, rispetto a ieri, quando il picco è stato molto alto, 35 casi, oggi se ne registra uno solo. Si tratta di un uomo di 79 anni. Un'altra persona, sempre un uomo ugualmente di 79 anni, è invece deceduto e porta il numero dei pazienti deceduti a 473, dato che era rimasto invariato per quasi 4 mesi. Invece sono complessamente 4.016 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.966 dimessi guariti, più 2 rispetto a ieri, di cui 15 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici. E 2.951 che hanno già risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 577-2 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 175.960 test. 41 pazienti, invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 4 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 532, meno 3 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Del totale dei casi positivi, 557 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, meno 1 rispetto a ieri. 947 in provincia di Chieti, più 1. 1737 in provincia di Pescara, più 3. 742 in provincia di Teramo, questo dato è invariato. 30 da fuori regione, invariato. E 3, meno 2, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Al netto dei riallenamenti, il caso di oggi è riferito alla provincia di Pescara. Due ragazzi di 30 anni di Roma ieri avevano deciso di raggiungere il Monte Vellino a quota 2487 metri sul versante del Fuscino. I due escursionisti avevano scelto di percorrere la via numero 5 del CAI che è da fonte canale a quota 1.202 metri prosegue lungo una carrareccia con andamento trasversale fino alla parte alta di Colle Pelato che poi a quota 1.430 metri si piega prima a sinistra e dopo un breve percorso a destra dirigendosi verso il canalone del Monte Vellino fino a quota 1.700 metri per poi piegare ancora a sinistra e risalire verso destra un ripido dorso per giungere alle balze rocciose antistanti alla sommità e infine proseguire fino a guadagnare la vetta del Vellino a quota 2.487. Un percorso piuttosto impegnativo che nell'ultimo tratto presenta una difficoltà di terzo grado e rende necessario a chi la percorre di aiutarsi anche con le mani per affrontare la ripida salita. Purtroppo proprio verso quest'ultimo tratto il primo dei due escursionisti è scivolato ed è finito giù lungo il percorso per circa 30 metri urtando lentamente la testa contro la parete rocciosa. L'amico che era con lui ha subito allestato il 118 che ha attivato il soccorso alpino e esperiologico d'Abruzzo. Decollato dall'aeroporto di Preturo in provincia dell'Aquila l'aerisoccorso con la borde sanitaria e i tecnici del soccorso alpino ha raggiunto il luogo dell'incidente. Sul posto i tecnici sono scesi ed hanno recuperato il ferito con il verricello. L'uomo è stato subito trasportato all'ospedale dell'Aquila dove gli è stato diagnosticato un forte trauma cranico. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Illeso ma sotto shock per l'accaduto il compagno che è stato riportato a valle dai tecnici del soccorso alpino. L'AMBI nazionale, cioè l'Associazione nazionale dei consorsi di bonifica, sceglie il capoluogo di regione per presentare le opportunità del programma Recovery Fund. Il giovedì 17 settembre all'ero 11 a Palazzo dell'Emiciclo, Sala Ipogea, si terrà un incontro in cui l'Associazione nazionale dei consorsi di bonifica presenterà il piano nazionale di rimessa in efficienza delle opere idrauliche. Un importante ed innovativo patrimonio di progettualità esecutivo e definitivo in grado di dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza ambientale dei cittadini, alla richiesta di acqua in qualità e quantità per l'agroalimentare del Made in Italy e soprattutto anche della occupazione. Una occasione di confronto che avrà un appendice a livello regionale con la presentazione di progetti operativi per il rilancio del territorio abruzzese attraverso le relazioni dei commissari dei consorsi di bonifica abruzzesi. L'evento, oltre a presentare le opportunità nazionali, avrà per tema la resilienza ai cambiamenti climatici, transizione ecologica Recovery Fund Green, la proposta concreta e immediata dei consorsi di bonifica e consentirà di fare una ricognizione delle necessità progettuali del territorio regionale attraverso i consorsi di bonifica abruzzesi. Un piano, quello regionale, che ha l'ambizione di non essere solo una lista della spesa che trovi finanziabilità nel Recovery Fund, ma che riesca a guardare alle questioni territoriali irrisolte, rivendicando a gran voce, attraverso schede progettuali un percorso di sviluppo per i territori dei consorsi di bonifica abruzzesi alle prese con emergenze ambientali, tra le quali la granza idrica, ammodernamento delle reti e degli acquedotti, l'inquinamento ambientale, le bonifiche, la gestione delle gighe. Il convegno sarà moderato da Emiliano Di Matteo, presidente della Commissione Consigliare Agricoltura. Nel corso dell'incontro saranno presenti i commissari dei consorsi di bonifica regionali che presenteranno le progettualità dei rispettivi territori di competenza. Circa 50 ragazzi, motivati da una causa comune, si sono riuniti ieri, domenica, per svolgere la prima giornata ecologico-culturale della neo-associazione giovanile Pagina Bianca. L'iniziativa si è tenuta presso il parco antistante alla chiesa dello Spirito Santo di Avezzano, luogo frequentato da giovani, famiglie, sportivi ed amici a quattro zampe. La giornata si è svolta all'insegna dell'ecologia e dell'arte. L'obiettivo principale quindi non è stato solo quello di bonificare un'area della città di Avezzano, ma di mostrare come questa può essere riutilizzata. Per l'occasione si è esibita la cantante Alessandra Stornelli che con note canzoni ha alietato la mattinata. La stessa ha anche allestito delle attrezzature completamente ecologiche e rispettose della natura circostante per porre in essere la sua performance musicale. L'iniziativa è stata possibile anche grazie al contributo apportato dall'azienda Iclean, con sede nella zona industriale, che ha donato all'associazione vario materiale come guanti antitaglio, sacchi adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti ed altro. Da notare come in un momento storico difficile, dovuto anche ad una emergenza sanitaria ancora in atto, dei ragazzi, tutti under 35, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-19, abbiano deciso di dedicarsi alla città, apportando un contributo fondamentale per chiunque abbia il piacere di frequentare quella zona ripulita e rigenerata. I ragazzi hanno mostrato tanta soddisfazione non solo per il loro operato, ma dagli apprezzamenti dei passanti e del parroco della Chiesa Santo Spirito, Don Antonio Salone. È stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione della nuova linea in cavo interrato 150 kilowatt Pettino-Torrione, grazie alla quale sarà possibile liberare un intero quartiere del centro abitato dell'Aquila dal vecchio condotto elettrodotto. Il nuovo collegamento in cavo, approvato con un decreto di autorizzazione da parte del Ministero dell'Esviluppo economico e del Ministero dell'Ambiente, sarà lungo circa 6 chilometri e permetterà la demolizione di circa 5 chilometri di vecchie linee e 18 tralici, restituendo così oltre 10 ettari di territorio, oggi densamente popolato, libero da infrastrutture elettriche. Il progetto, per il quale Terna investirà circa 7 milioni di euro, porterà anche importanti benefici elettrici perché la nuova linea sostituirà completamente la vecchia dorsale aerea, ormai obsoleta, rendendo più affidabile ed efficiente la rete elettrica nell'area dell'Aquila, oltre a contribuire alla raccolta della produzione di energia rinnovabile in Abruzzo e nel Lazio. La nuova linea in cavo, pettino, torione, è una delle tre opere previste da Terna per la razionalizzazione del sistema elettrico dell'Aquila. Il piano di interventi, infatti, prevede anche l'adeguamento della stazione elettrica 150 kilowatt di pettino e la nuova linea in cavo interrato 150 kilowatt torrione-bazzano che permetteranno, una volta realizzata, di liberare gran parte della città dell'Aquila dagli elettrodotti aerei che attualmente interessano il centro abitato. La razionalizzazione del sistema elettrico dell'area dell'Aquila permetterà, infine, a fronte della realizzazione di circa 3 chilometri di elettrodotto aereo e 11 chilometri di cavo interrato, la demolizione di quasi 14 chilometri di vecchie linee. Zero morti sulle strade. Per dare il via alla campagna di sicurezza stradale la polizia stradale scende in campo in tutta Italia nella giornata di mercoledì 16 settembre con un nuovo progetto promosso da RuPaul New York di cooperazione della polizia stradale europea con il supporto della Commissione europea. L'iniziativa si inserisce nel quadro della settimana europea della mobilità 16-22 settembre e ha lo scopo di riuscire proprio quel giorno ad avere zero vittime sulle strade. La campagna RuPaul Safety Day si propone di accrescere la consapevolezza sociale sul fenomeno della incidentalità grave, richiamare l'attenzione sulla necessità di realizzarsi all'obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero delle vittime della strada e ridurre il numero delle vittime in Europa. Per concorrere a realizzare questi obiettivi il compartimento polizia stradale Abruzzo e Molise nella giornata del 16 settembre ha messo in campo 75 pattuglie su tutto il territorio di competenza tanto sulla viabilità ordinaria che autostradale. Verrà inoltre vita alla mattinata di mercoledì con inizio alle 11 ad un incontro presso l'auditorium del Conservatorio Statale Musicale Casella dell'Aquila diretto da Claudio di Massimo Antonio cui prenderanno parte oltre ad autorità cittadine e rappresentanti l'associazione vittime delle strade un gruppo di frequentatori nel rigoroso rispetto delle normative anti-covid. L'abbinamento musica e sicurezza sarà suggellato dall'esecuzione di alcuni brani da parte di un quartetto jazz appositamente istituito dal Conservatorio e dalla partecipazione della nota cantante Simona Molinari. In merito alle notizie emerse sulla stampa riguardanti il ricorso alle tribunali amministrativi dell'Aquila da parte delle imprese ICM del gruppo Maltauro e Nocivelli sul project financing del nuovo ospedale di Chieti interviene il capogruppo del Movimento 5 Stelle in regione Abruzzo-Sar Marcozzi. Siamo da sempre contrari, scrive, all'utilizzo della procedura del project per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri. Si tratta di uno strumento che agisce in grave danno delle casse pubbliche ed è solamente grazie alle battaglie che abbiamo portato avanti negli scorsi anni se siamo riusciti ad impedire un grave sperpero di denaro pubblico. Dobbiamo però registrare la totale inerzia del governo di centrodestra di regione Abruzzo sul tema. La giunta Barsiglio avrebbe già dovuto mettere una pietra tombale sopra al procedimento bloccandolo una volta per tutte. L'immobilismo che registriamo fin dall'insediamento della nuova legislatura è inspiegabile, soprattutto alla luce di quanto dichiarato in questi anni da esponenti dell'attuale governo regionale con Mauro Febbo, molto veloce ad accordarsi alla nostra posizione contraria quando era in opposizione e stranamente siliente adesso che potrebbe intervenire concretamente e fermare una volta per tutte il progetto. Si tratta di una procedura durante la quale la loro Presidente D'Alfonso aveva avvocato a sé prerogative la cui competenza è unicamente della direzione generale dell'Asla. Inoltre vogliamo ricordare dal Presidente Marsilio e dall'Assessore Eri che tra la dichiarazione di interesse pubblico e la situazione attuale le condizioni sono cambiate. Infatti, grazie all'intervento del Movimento 5 Stelle al governo del Paese sono stati bloccati fondi a sostegno dell'edilizia sanitaria pubblica. Per questo possiamo parlare di una dichiarazione superata dall'attualità. Oggetti a forma di cuore con qualunque materiale e di qualunque forma da donare agli operatori sanitari come riconoscimento dello straordinario lavoro compiuto nei mesi scorsi durante l'epidemia Covid. Si riassumo così l'iniziativa a cui in Italia hanno aderito finora circa 11.000 persone intrapresa dall'Associazione Culturale Non Profit Io Creo preseduta da Antonella De Tommase. Una iniziativa denominata Grazie al Cuore. Le parole che migliaia di umani di persone di tutta l'età e tutte le categorie sociali hanno inciso sugli oggetti da loro realizzati che hanno dimensioni, forme e caratteristiche tra le più disparate. Questa mattina, come già avvenuto in altre regioni, nella sala d'Albrollo dell'ospedale dell'Aquila si è svolta la cerimonia di consegna degli oggetti simbolo agli operatori sanitari. Erano presenti tra gli altri il manager dell'Asl 1 Avezzano sul mondo dell'Aquila Roberto Testa e il direttore sanitario di presidio Giovanna Micolucci e la referente del progetto per la provincia dell'Aquila Stefania Zuccaro. Hanno partecipato responsabili e personali dei reparti direttamente impegnati nell'emergenza Covid, pronto soccorso 118, punto soccorso pediatrico, malattie infettive, nomologia, terapia intensiva, medicina e riabilitazione Covid per i settori dedicati. I manufatti, a forma di cuore, donati stamane ai responsabili e coordinatori infermieristici dei reparti Covid del San Salvatore saranno successivamente consegnati agli operatori sanitari dell'intero ospedale e da servizi e strutture che lavorano a supporto dell'emergenza. Nel caso di dire, ha dichiarato il manager Testa, che è una iniziativa che tocca il cuore di tutti noi impegnati con ruoli diversi ma con la medesima finalità ad assistere i malati e da contenere la diffusione del virus. È un riconoscimento che infonde fiducia e coraggio in chi è sul campo tutti i giorni a fronteggiare questa emergenza. Si è riunita oggi, a Palazzo Silono all'Aquila, la Giunta regionale per l'approvazione dei seguenti provvedimenti. Su proposta del Presidente, da assegnate le economie derivanti dalla programmazione dei piani regionali, gli interventi antisismici su edifici pubblici strategici ai fini della protezione civile. È stato quindi disposto l'utilizzo di una somma di oltre 2 milioni di euro con l'approvazione di un nuovo piano di interventi ed che assegnano risorse disponibili alla realizzazione di interventi antisismici su edifici strategici, sedi di centri coordinamento misto o centro coordinamento comunale. Si tratta di opere presenti negli elenchi di priorità già approvati per i comuni di Civitella Roveto, Cugnoli, Torino di Sangro, Fara Filon Petri. Approvata l'organizzazione e l'attivazione di presidi territoriali idraulici di interesse regionale. Approvato un finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del servizio sanitario regionale per il servizio reso in seguito all'emergenza epidemiologica. Le risorse finanziarie statali e regionali sono ripartite tra le quattro asla buzzesi per un totale di 17 milioni di euro. Su proposta dell'assessore all'agricoltura, approvato lo schema dello statuto dei consorsi di bonifica Nord-Sud-Ovest interno e centro predisposto dal Dipartimento Agricoltura. Su proposta dell'assessore allo sport, ripartite le economie realizzate in base alla legge regionale in materia di sport ed impiantistica sportiva che prevedono un aumento di fondi disponibili pari a 250 mila euro. Su proposta dell'assessore al lavoro, individuati infine i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle unioni di comuni per progetti di attivazione della modalità di lavoro agile cioè lo smart working. Oltre 93 mila mascherine per 450 scuole ed un totale di 86 mila 300 alunni delle primarie e secondarie di primo grado. Si prevede un rientro in sicurezza per gli studenti abruzzesi che il 24 settembre troveranno mascherine chirurgiche certificate lavabili per almeno 20 volte distribuita da volontari della protezione civile regionale. Un segnale di presenza e vicinanza della regione ma soprattutto di attenzione per la salute dei ragazzi in un contesto così delicato. Un'iniziativa che ha visto far rete l'ufficio scolastico regionale e l'assessorato alla sanità con le individuazioni di referenti covid che fungeranno la interfaccia per le procedure di adottare nel corso dell'anno. Bene, con questa notizia abbiamo terminato e prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione delle telegiornali la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antenna2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche vecchi servizi che Antenna2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie per sentirci. Grazie per la visione!